Accade ad Agropoli, invece del parco giochi impraticabile ed ingestibile, non sarebbe meglio ricavarne un piccolo parcheggio per i residenti. Siamo in via Carmine Rossi ad Agropoli dove si parcheggia in curva per mancanza di spazi e la richiesta di Eliseo Dell'Ipaoli all'amministrazione comunale di Agropoli. Il parco giochi in questione è stato più volte oggetto di critiche per lo stato di abbandono in cui versa. Purtroppo qui il parco giochi ha rappresentato movimenti notturni talvolta anche violenti, continua Dell'Ipaoli. Questo luogo era diventato il raduno bullico che scassava tutto, lasciava bottiglie rotte, partivano spedizioni a danno degli specchi delle auto lungo la strada e minacce a chi li scopriva e li richiamava al senso civico. La problematica in questione è stata più volte messa all'attenzione del primo cittadino, Adamo Coppola, che però ha ribadito più volte da diverso tempo che presto ci saranno interventi mirati per risolvere tali problematiche, anche in riferimento all'ostato di abbandono e degrado in cui versa il parco pubblico nei pressi del cineteatro. I cittadini, le famiglie sono stanche di non essere ascoltate e chiedono interventi urgenti e mirati affinché si possa dare dignità alle uniche aree ludiche dedicate ai più piccini.